In questo numero del Salus Tg, la proposta, terapie geniche costose le producono i centri pubblici. L'appello di 40 scienziati e politici, non facciamoci la guerra. Esperto denuncia, far west ambulatori chirurgici, appello per regole nazionali. Terapia genica, non più il futuro ma l'entusiasmante presente della medicina moderna. Le cure che puntano a correggere gli errori nel DNA del paziente per farlo guarire, stanno infatti entrando a far parte dell'armamentario terapeutico dei clinici. Il problema è il loro costo, altissimo, che può arrivare a sfiorare il milione di dollari. Non sono solo le industrie però a lavorare su queste cure e proprio quando la scoperta è stata raggiunta anche con fondi pubblici ci dovrebbe essere una richiesta di un condizionamento sul prezzo, o si potrebbero creare laboratori pubblici che preparino il prodotto e lo mettono a disposizione al prezzo di costo, propone Silvio Garattini, direttore dell'IRCS, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Riteniamo urgente l'allineamento e il rispetto reciproco tra scienza e politica, che mai dovrebbero essere fazioni contrapposte. È dall'imprescindibile alleanza tra queste che dipendono la salute e lo sviluppo economico e sociale del Paese. È l'appello iniziale di un documento sottoscritto da 40 ricercatori, un manifesto che chiede di riallineare scienze politiche, resettandole dal cortocircuito che le ha viste troppe volte l'una contro l'altra opposte. Ogni giorno in Lombardia e in altre regioni italiane centinaia di operazioni di chirurgia estetica maggiore, come l'impianto di protesi al seno o la liposuzione, vengono effettuate con gravi rischi per il paziente in strutture senza i necessari requisiti di sterilità e anestesista. Teatro del Faroest, gli ambulatori chirurgici, una sorta di zona franca su cui lo Stato dovrebbe imporre delle regole nazionali e l'appello denuncia consegnato alla DNA Cronos Salute dal chirurgo plastico Paolo Santanchè. L'esperto segnala un pericoloso vuoto normativo che riguarda la regolamentazione delle strutture private destinate alla chirurgia.